Dopo il voto, il vecchio pentapartito appare non più proponibile. I socialisti intendono far valere il successo elettorale ottenuto. La democrazia cristiana chiede una coalizione politica forte con un programma di legislatura. Domani si riuniscono la direzione liberale e socialdemocratica. Vediamo l'atteggiamento dei partiti laici in questo servizio di Corradino Mineo. Onorevole Lamalfa, ora che socialisti e democristiani sono stati premiati dal voto, quale può essere lo spazio dei repubblicani? Bisogna vedere come socialisti e democristiani si porranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni perché essi hanno svolto una campagna elettorale aspramente contrapposta e anche i primi atti di questi giorni mostrano che non c'è un'intesa facile tra questi due partiti. Il ruolo e la funzione quindi dei partiti laici rimarrà fondamentale perché su ciascuno dei problemi che il paese dovrà affrontare le posizioni della DC e del PSI saranno molto conflittuali. Certo sarebbe stato meglio che l'elettorato avesse rafforzato questo ruolo che rimane tuttavia indispensabile. Con la proposta dell'alternativa riformista, i socialdemocratici sembravano voler tirare la volata verso sinistra a tutta l'area laica e socialista. Dopo l'insuccesso elettorale, una minoranza intorno a Preti e Romita chiede le dimissioni del segretario. Cosa farete? Tornerete alle consuetudini pentapartitiche o riproporrete l'alternativa? Noi abbiamo proposto l'alternativa riformista pochi mesi prima delle elezioni quindi non abbiamo avuto il tempo necessario per sviluppare il nostro dialogo. Tuttavia abbiamo avuto un risultato politico. Nell'ottobre scorso avevamo auspicato un 20% alle elezioni e ai partiti dell'area socialista. Il 20% c'è stato. Invece di avere noi il 4 o il 5% abbiamo avuto il 3% ma il risultato politico c'è. A questo punto a noi non rimane che proseguire su questa strada perché siamo convinti che se si vuole dare un'alternativa a questo quadro politico che tutti contestano solo attraverso l'alternativa riformista potremmo ottenere questo obiettivo. I liberali hanno abbracciato i grandi temi della giustizia e dell'ambiente però poi in campagna elettorale si sono trovati soli a difendere il pentapartito a fianco della democrazia cristiana. E per il futuro volete fare parte di una sinistra come si dice di movimento o vi riproponete alla destra dello schieramento politico? Sì, a me non piacciono queste schematizzazioni di destra e sinistra nel tempo e soprattutto ormai fuori etichetta. Non trovo nemmeno che sia stato contraddittorio il fatto che noi abbiamo fatto le battaglie sui giustizia e dell'ambiente con la riproposizione del pentapartito. Ancora oggi, dopo il 14 giugno, si può constatare che in Parlamento ci sono solo tre maggioranze possibili. O l'alternativa di sinistra, o il compromesso storico, o la forma della collaborazione democratica tra i 5 partiti. La DC ha voluto le elezioni, se la DC per prima dire che cosa propone, certamente il pentapartito da condizioni di prima non può essere più riproposto.